benvenuti nel gioco seminatori di pace diventiamo anche noi seminatori di bontà amore gioia aiuto questi sono 12 semini andrò ad incollare sul retro le immagini che corrispondono ad azioni di pace ogni semino avrà braccia e gambe e poi metterò degli occhietti già pronti e poi tutti i semini verranno messi in un sacco estratti uno alla volta per osservarli e potremo utilizzarli in varie tipologie di gioco che vedremo abbiamo tantissimi fiori 12 fiori che abbiamo anzi questo qui dovevo metterlo diversamente così benissimo quindi sono fiori e si possono infilare in questi buchetti a fine gioco tutti i semini si tolgono dalla scatola i semini sono 12 e ho scelto 12 azioni che ci ricordano gesti di solidarietà di rispetto di aiuto in sostanza gesti di pace il gioco si può intitolare seminatori di pace vi metto in descrizione al video tutto il materiale per poterlo realizzare a parte la scatola che è molto semplice da poter trovare forse ne serve una un pochino più grande per poterci fare entrare tutti i semini grazie a tutti alla fine ho scelto una scatola più grande vedete è una normale scatola da scarpe praticamente il coperchio viene forato e poi questo qui per infilarci i semini facilissimo a